Noi votiamo contro questo provvedimento, chiediamo che il Green Pass sia abolito e si faccia invece ciò che serve agli italiani, le terapie, l'aerazione delle scuole, un'opera di informazione e non di propaganda, perché questa propaganda che non è informazione ha indotto scetticismo in moltissimi italiani ottenendo l'esultato opposto, perché gli italiani non ci stanno a essere presi per stupidi e noi stiamo dalla loro parte.